Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Giovanni Laguidala del Google Developer Group di Roma e oggi voglio presentarvi un modo alternativo di sviluppare web application. Quanti di voi sono sviluppatori di web application in questa sala? Un buon numero. Gli altri invece, quelli che non hanno alzato le mani, ne capiscono qualcosa oppure mai visto un modo per sviluppare web app, tutto totalmente diverso? Mai visto web application come si sviluppano? Per curiosità, quasi, poco poco. Ok, io normalmente faccio lo sviluppatore Java per Android, sviluppatore Android e sviluppatore C++ però siamo in Italia e spesso ci capita di non essere così specializzati nello sviluppo di qualcosa ma ci dicono, guarda ci servirebbe anche questo, ci servirebbe anche quell'altro tipo di sviluppo. Succede, no? Magari devi sviluppare un componente di un DB, poi una web application, poi un'applicazione mobile quindi sotto a studiare le cose per. Ora, ok, non sarà così difficile fare una web application quindi, diciamo, di scegliere il linguaggio più famoso, quello più utilizzato per le web application oggi che è JavaScript, siamo tutti d'accordo più o meno, quello è il linguaggio principe. Solamente che per studiare JavaScript non basta il libro di JavaScript ma bisogna studiarsi numerosi, numerosi framework e quindi lo sviluppo di un'applicazione web comporta la conoscenza di varie liberie vari pseudo framework che funzionano con logiche totalmente diverse tra loro. Tutto ciò si rende pratico in uno stack che non è molto solido e con documentazione annessa da studiare che ha un'interminabile serie di interazione tra loro e tra i vari framework. Quindi non è molto facile gestire la complessità che può essere dovuta, che ti viene studiando JavaScript per lo sviluppo web. L'alternativa ce la danno dei linguaggi e delle evoluzioni di JavaScript per esempio quello che può essere l'S6 o il TypeScript. Il TypeScript è il linguaggio diciamo sopra JavaScript con i tipi che ha definito Microsoft, che sta andando molto in bocca. L'S6 sono le nuove specifiche di JavaScript che aggiungono per esempio le classi. Ok, però perché questa immagine? Perché per me, questa è una mia opinione personale è solamente un nascondere la complessità di un linguaggio come JavaScript e parlo solamente di complessità, non di tutti i problemi che poi sotto ci sono in JavaScript. Quello che ho sperimentato è l'utilizzo invece come alternativa di un nuovo linguaggio definito da Google che non è solo un nuovo linguaggio, Dart. È anche un insieme di librerie già nel core del linguaggio stesso. Un ambiente, questo vuol dire un ambiente di sviluppo, dei tool che ti permettono, che ti aiutano a sviluppare una web application e dei tool che aiutano la produttività dello sviluppatore e soprattutto la possibilità di compilare il codice Dart in JavaScript. Questo vuol dire che il tuo applicativo pensato e sviluppato in Dart che tra poco vedremo, verrà compilato in JavaScript e quindi sarà disponibile su tutti i browser. Dart è un linguaggio, io preferisco chiamarlo ambiente open source e quindi c'è tutto quanto il codice della macchina virtuale perché è un linguaggio che si basa sulla VM, sulla macchina virtuale, ed è tutto open source completamente nonché uno standard ed è già pronto per la production ovvero sono stati eliminati bug numerosi e che rendevano impossibile utilizzarlo per un ambiente di production e da poco, da due giorni fa, è uscita la 191 una release abbastanza potente per sviluppare web application e altro. Come dicevo, la cosa importante di Dart è che compila in JavaScript e che quindi può tranquillamente girare su tutti gli ambienti moderni come ambienti intendo il browser. qui browser mobile, da Safari per iOS, da Chrome, da Firefox tutto ciò che voi sviluppate in Dart può essere compilato in JavaScript e quindi girare tranquillamente nei vostri ambienti preferiti. Tutto ciò quindi voi non toccate una linea di JavaScript se non create una linea di JavaScript ci pensa il compilatore Dart che viene fornito nell'ambiente Dart a transpilare, in realtà viene chiamato transpilatore a transpilare il linguaggio Dart in JavaScript ottimizzato e tra l'altro illegibile, molto offuscato perché è generato da un compilatore. E questo processo è pensato come se voi pensaste il JavaScript come assembler. Ok? Voi non sviluppate, penso quasi nessuno o pochi di voi sviluppano assembler sviluppate in linguaggi di più alto livello. Quello che Google ci offre con Dart è lo stesso tipo di concetto sviluppare in un linguaggio di più alto livello familiare e molto produttivo e compilato in JavaScript in modo che voi possiate girarlo sul browser. Così la complessità può essere domata non siete aggrediti dalla complessità. Dart non gira solamente in client ma gira anche lato server perché la macchina virtuale, la Dart VM è disponibile per i principali sistemi operativi e quindi potete utilizzarla lato server un po' come fate con JavaScript con OJS. Quindi tranquillamente lato server. Ci sono persone che hanno sviluppato servizi cloud in Dart e ci sono persone che hanno sviluppato per esempio script di sistema in Dart. Tutto girando sulla Dart VM che è la stessa macchina cioè diciamo che i sviluppatori della Dart VM che tra parentesi è open source è lo stesso team che sviluppa e ottimizza la V8 di JavaScript quella Google famosa di Node.js. Ora vediamo un esempio di codice di Dart. Perché è familiare? È familiare da chi viene da un ambiente di sviluppo Java per esempio. Quindi tutti coloro abituati a sviluppare in Java si trovano un ambiente molto familiare. e avete sicuramente le classi avete sicuramente i tipi vedremo poi come vengono definiti e avete sicuramente un entry point della vostra applicazione ed è sempre quello il main quello che chi viene da C++ o da Java si trova insomma sicuro quindi la vostra applicazione parte dal main esistono gli import quindi potete aggiungere le librerie del core di Dart direttamente con un import potete estrarre solamente da una libreria una classe esattamente una classe che utilizzerete poi nella vostra applicazione e potete definire le vostre classi le vostre classi che hanno costruttori come vedete qui anche questo la parola esatta è proprio sempre quella familiare cioè chi non conosce Dart ma conosce Java C++ vedete le slide chi conosce Java C++ chi viene da quel tipo d'ambiente risulta molto molto facile entrare in questo tipo di ottica e quindi può sviluppare web application diciamo le classi hanno il loro costruttore hanno i loro attributi hanno i loro membri e hanno per esempio dei metodi per definire per esempio questa è la classica toString ridefinita string toString quindi il metodo toString restituirà una stringa e che cosa restituirà con il carattere dollaro value farà uscire l'attributo value di quella classe ovviamente voi definita la classe potete poi nel main utilizzare quella classe per istanziare un nuovo tipo di oggetto quindi nuovo dice con l'attributo n12 che viene messo a size e potete chiamare un metodo per esempio roll quello che avete definito voi successivamente nella classe roll che fa quello che deve fare quindi quello che vi aspettavate linguaggio familiare semplice e per chi viene da java e da c++ lineare è facile studiare dart ed è facile essere operativi e produttivi in poco tempo vediamo sempre in particolare focalizziamoci sulla classe quindi ci sono gli attributi attenzione un attributo di tipo intero num a i getter e i setter l'abbiamo già visti poco fa l'underscore sul nome dell'attributo vuol dire che è privato quindi non accessibile all'esterno non ci sono parole chiave private public non c'è basta mettere un underscore al nome del metodo o al nome dell'attributo ci sono i costruttori e c'è come vedete qui che attribuiscono al membro strength il valore che gli passi nel costruttore il dis fa il dis no come in javascript ancora devo capire cosa fa in javascript non so se vi è capitato il dis fa il dis quindi fa esattamente nell'istanza che voi avete definito associa il valore che avete passato al costruttore e c'è un particolare in più che è il costruttore named i costruttori named ovvero se voi avete dei costruttori che hanno un comportamento particolare per esempio definire un abbraccio leggero ok voi potete definire un costruttore di tipo named che fa un setting particolare quindi poi successivamente per istanziare un oggetto di tipo ag con un modo particolare bastare a fare new ag di light ag.light è un costruttore è esattamente un costruttore chiamato però come vi pare a voi e che ha il comportamento che definite voi ma c'è di più questo sempre per aiutare sia la leggibilità che la produzione del codice d'art il costruttore se associa solamente un parametro strength al this.strength può essere riassunto e quindi codificato in questo modo qui stringato semplice fa la stessa cosa di definire questo meno codice e da sviluppatore preferisco meno codice possibile non so se siete d'accordo insomma stand by penso potete ridefinire gli operatori quindi avete le classi avete i tipi potete ridefinire gli operatori tutto ciò è molto potente perché potete definire le vostre operazioni utilizzando la vostra sintassi su oggetti che voi definite e questo è invece un'altra particolarità di dart che mi piace particolarmente cioè scrivere meno codice possibile ovvero se dovete sotto la istanziazione di un oggetto col costruttore suo se dovete poi successivamente alla sua istanziazione applicare cambiare dei membri chiamare dei metodi su quello stesso oggetto potete evitare di scriverlo e potete evitare di scriverlo con un operatore quello che viene chiamato cascade operator che non è questo Roma 3 ma è questo ovvero punto punto così migliora di molto la produzione di codice perché comunque non devo scrivere button ogni volta è una particolarità se volete però aiuta particolarmente e qualcuno mi ha opinato il fatto che è poco leggibile questo tipo di sintassi però diciamo è soggettivo in realtà io definisco un button è un'istanziazione di un button element questo è proprio il button element dell'html e poi posso associare allo stesso button attributi chiamare metodi per esempio questo è long click list ovvero chiama l'add top hat quando viene fatto il click su quel button molto semplice esatto fa riferimento all'ultimo new deve stare esattamente sotto ok è l'ultima cosa sotto alla new oppure non solo alla new diciamo se c'hai un metodo che ritorna un oggetto e sotto fai punto punto verrà definito esattamente per quell'oggetto a cui hai fatto l'ultima chiamata quella cosa lì quindi il costruttore siccome ritorna l'oggetto di coltivo ok comportamento diciamo sempre familiare se voi avete una stringa coffee e gli associate un metodo e quindi chiamate un metodo mandate un messaggio missing quello che fa dart è semplicemente dirvi guarda che la classe stringa e vi uscirà questo del messaggio non ha il get di missing cioè non puoi associare non hai né il get né il metodo missing quindi non puoi accedere a quell'attributo missing ok e vi esce proprio questo messaggio di errore un altro comportamento familiare è che in altri linguaggi di nostra conoscenza la stringa 2 maggiore di 1 fa vero ora tutto ciò è un po' disordinato in dart 2 maggiore di 1 2 a stringa da semplicemente che il metodo maggiore non esiste per la classe stringa familiare semplice non bisogna reinventarsi niente in dart tutto è un oggetto anche le funzioni quindi posso creare una variabile per esempio talk che è una funzione che prende in argomento una variabile qualsiasi s e la stampa dopodiché posso utilizzare quella variabile come una funzione le funzioni sono first class object in dart e avete notato che qua non ho utilizzato i tipi vabbè questo stampa idr serve per attraire un po' l'attenzione diciamo non ho stampato i tipi come ho fatto prima i tipi possono essere utilizzati in dart ma dart è un linguaggio dinamico come javascript ma è un linguaggio optional type cioè ovvero che i tipi possono essere utilizzati o no e voi dite vabbè allora perché devo utilizzare i tipi i tipi utilizzateli come vi pare ma il tipo di solito è utile per trovare i bachi prima per è documentazione per gli altri programmatori che verranno dopo di voi cioè se io prendo se io ho un metodo e vedo che gli argomenti hanno una stringa un intero e un booleano so sicuramente che devo associarci quei tipi di valori quindi è più facile poi per chi verrà dopo chi poi dovrà utilizzare quel metodo sapere quale tipo di oggetti passare a quel metodo a quella funzione è documentazione per umani documentazione cioè il tipo quindi diciamo che è consigliabile utilizzare i tipi soprattutto quando quando c'è un'interfaccia verso l'esterno quindi negli input o negli output di un metodo di una funzione e poi magari all'interno della vostra funzione potete anche non utilizzare i tipi potete definire una variabile bar net value uguale new string buffer questa la runtime di Dart sa benissimo che è uno string buffer ma a voi non mi interessa non volete utilizzare la potenza del fatto della tipizzazione all'interno di un metodo perché tanto non vi servirà magari serve a quelli che utilizzano la stringa initial mettendo come argomento una stringa esatta e non un intero quindi i tipi opzionali cosa molto importante io personalmente preferisco utilizzarli sempre tanto non c'è un calo di performance perché quando poi verrà compilato in javascript tutto ciò viene tolto però utilizzando Dart e come vedremo il Dart Editor realmente di Dart vi permette di scovare i bug gli errori a tempo di compilazione a tempo di debug dell'applicazione con gli errori sui tipi e questo capita spesso cioè capitano gli errori sui tipi un'altra cosa che per esempio in javascript si può utilizzare è il jquery per accedere agli elementi del DOM Dart ce l'ha integrato non bisogna utilizzare un altro tipo di librerie tutto quello che noi possiamo fare tutto quello che dobbiamo fare per utilizzare il DOM in Dart è semplicemente importare la libreria Dart dopo un html stop e dopo dopodiché possiamo creare ecco per esempio nel nostro main abbiamo bisogno di accedere a l'elemento input element di nome to do input e la lista to do list quindi basta definire un elemento di tipo input element quindi un'istanza di quella classe e accedere all'elemento del DOM facendo questo semplice metodo query selector quando faccio query selector e gli do in pasto l'identificativo di quel oggetto scusate ho automaticamente in to do list e in to do input quell'oggetto e posso associarli per esempio il listener sul cambiamento oppure sul click dove il listener è nient'altro che un'altra funzione o un altro metodo che prende in argomento un evento un argomento di tipo event e quindi un evento quindi anche qui non c'è bisogno di utilizzare una riberia esterna è già tutto integrato in dart quello che serve un'altra cosa di cui abbiamo bisogno nei linguaggi moderni è la gestione della sincronicità quindi abbiamo un task che impiega tanto tempo non possiamo aspettare non possiamo fare aspettare l'utente perché poi alla fine queste sono sempre web application c'è un utente dietro che non può aspettare chissà quanto affinché si completi qualche cosa e dart offre la sincronicità come col meccanismo dei future e dei completer ora che cos'è un future è semplicemente una interpretata come una variabile che si completerà e che verrà valorizzata in futuro quindi definendo per esempio nel nostro main il metodo loadnews come ritorno come valore di ritorno future vuol dire che stamperà intanto justprint quando verrà completato tutto quello che è in loadnews viene eseguito quello che c'è nel den ma abbastanza semplice forse l'ho spiegato in maniera troppo contorta ma in realtà tutto quello che c'è fai tutto quello che è in loadnews den quando è finito prendi le news e facci qualcosa ok però questo è vedere come un task parallelo a questo il den ti sgancia il task principale dall'esecuzione del task loadnews ora questo è un esempio old style async perché old style perché dart è un linguaggio in continua evoluzione c'è da poco però diciamo stanno semplificando sempre di più perché il future può dare può diventare ostico perché da atto una serie una catena di den che a cui devi diciamo devi subire questa catena di den in realtà tutto quello che è stato cambiato l'altro ieri dal team di dart è stato semplificare il future con la parola chiave await async ovvero tutte le funzioni che i metodi le funzioni che ritorneranno future sono la parola chiave davanti a await quindi questo è un problema comune aspetto la connessione in database quell'aspetto la connessione in database sta in quella variabile database quando database verrà completato allora farà quest'altra cosa query for employees quindi farà la query in una serie di codici asincrono che viene reso anche più leggibile in questo modo qua rispetto a questo sì in questo caso sì la wait non è bloccante in questo caso la wait di solito non è la wait non è bloccante perché utilizzi il future un po' come qui esattamente qui load news non è bloccante perché infatti se voi eseguite questo codice vi stampa subito just print poi viene eseguito mentre si esegue la load news quando ha finito fa quello che sta dopo la news ok ok esatto lui la eseguiva l'avrebbe eseguita perché perché questo qui perché database non è bloccante questo qua questo è l'esempio di una catena di future quindi sono sequenziali ma non bloccanti qui potevi fare qualche altra cosa e veniva fatta ok quindi mentre aspettavi la connessione del db potevi fare qualsiasi altra cosa la cosa interessante è anche il catch dell'eccezione degli errori che possono venirti da un tipo per esempio dall'attesa di una connessione di un db e quella gestione viene fatta sempre qui un'altra cosa quindi che vi ho detto dart lato client ok lato server basta includere sempre la libreria io e potete tranquillamente definire un server http che sta in ascolto su una porta particolare che risponde alla richiesta che voi gli fate con una stringa per esempio quindi lato server potete sviluppare codice dart e tutto ciò gira nella dart vm mentre dall'altro client abbiamo detto compilazione in javascript ora compilazione in javascript ok chi la fa questa compilazione in javascript la fanno i tool dell'ambiente di dart che vi fornisce google voi potete utilizzare potete utilizzare qualsiasi editor a cui siete abituati perché esistono le estensioni per dart e perché dart ha tutte utili di taline di comando quindi potete utilizzare tranquillamente potete utilizzare dart2js che è il traspiratore dart compilatore tra virgolette potete utilizzare l'editor dart se voi andate sul sito dartlang.org scaricate tutto il bundle c'è l'editor c'è l'editor e tutto l'ambiente che serve per sviluppare l'editor ha una versione particolare di chrome chiamata dartium che ha all'interno la macchina virtuale dart quindi voi per il debug non dovete compilare in javascript ok quindi è tutto anche lo sviluppo lo sviluppo è molto più veloce non dovete compilare in javascript fate il vostro codice dart fate play sul dart editor che tra parentesi è una versione customizzata di eclipse quindi se siete abitati eclipse ok molto leggera tra l'altro rispetto ai clips e quindi fate il debug automaticamente in questo browser che è chrome con la macchina virtuale vm dart l'altro ieri è uscito l'articolo di google che non metteranno la dart vm nelle future edizioni di chrome per adesso perché l'avrebbero messa solo loro giustamente e quindi perché fa funzionare il codice solo su un browser rispetto agli altri quindi la procedura per generare codice javascript sarà compilarla con dart to js mentre lato server potete fare come vi pare perché installate la macchina virtuale dart e fate girare i codici dart quindi utilizzate i tool che voi già conoscete e utilizzate un sistema di liberie chiamato pub chiamato pub perché dart è lo sport preferito quello delle freccette è lo sport preferito all'interno dei pub e questo pub è un diciamo molto simile a quello che è il sistema di liberie di node.js che penso molti hanno utilizzato quello npm node package manager esistono più di 1500 packages all'interno del pub e quando Roma 3 ci smette di chiedere la password vi dico l'altro e anche voi potete utilizzare il pub per mettere le vostre liberie quindi è molto semplice fare dei pacchetti dart e darli in pasto al pub così che tutti gli altri possano utilizzarlo molto semplice perché tutto il processo della libreria d'arte si basa su un unico file di configurazione YAML in cui voi definite nel vostro oggetto quali sono le librerie che utilizzate quindi molto semplice anche qui non è che devo farmi chissà quali altri file di configurazione in questo tipo di applicazione utilizzo Polymer vedremo dopo cos'è utilizzo le API del browser utilizzo le API di Google per esempio per accedere alla Google Map o gli altri servizi Google esistono numerose altre librerie per interfacciamento con db sempre per esempio utilizzando web socket una miriade di librerie dart già me ne fornisce molte all'interno del core language e quindi diciamo già per l'ottanta per cento dei casi vanno bene quello che già Google vi fornisce in dart e poi potete utilizzare librerie di terze parti tutto centralizzato nel pub ora una cosa importante della compilazione in javascript è che è ottimizzata che vuol dire che quando voi fate un'applicazione in javascript e utilizzate un framework vi portate appresso tutto quello che il framework vi offre all'interno del JS cioè non c'è il linker come dice questa frase qui che ho trovato su web il web è pieno di link ma lo sviluppatore web non c'ha il linker cioè tutto ciò che voi quando sviluppate per esempio un C++ che non utilizzate viene buttato dal link in javascript tutto ciò non succede in dart quando voi compilate codice dart in javascript viene eliminato tutto ciò che non viene utilizzato quindi il vostro javascript è ottimizzato per la vostra applicazione web non usa codice che non utilizzate molto semplice facendo questo algoritmo che si chiama tree shaking ovvero scuote proprio la libreria e toglie tutto ciò che non viene utilizzato in questo caso buono e non ve lo ritrovate nel vostro js sul sito sempre di dart lang e otorg trovate un aggiornamento costante di ciò che è tutto il codice sviluppato e prodotto e compilato in dart2js viene diciamo analizzato secondo alcuni benchmark io non sono un fanatico dei benchmark però si vede che spesso stanno migliorando qui c'è stato un picco verso il basso questo viola è il codice dart2js questo giallo è codice js eseguito in vuoto quindi è diciamo ancora in prestazione migliore il javascript certo che però dovete essere bravi sviluppatori javascript per sviluppare codici a questo livello mentre il linguaggio dart direttamente interpretato dart2vm è di gran lunga superiore in prestazioni quindi lato client le prestazioni sono molto simili lato server è molto più performante dart della macchina virtuale javascript per esempio se fate back end in node.js fate back end con la macchina dartvm è molto più performante dart può essere deployato sul cloud e google vi dà il servizio a questo indirizzo ci sono tutte le istruzioni per deployarlo sul cloud di google ovviamente non è abbastanza facile perché utilizza non app engine ma compute engine quindi comunque non è abbastanza facile è un po' macchinoso però potete utilizzarlo anche su eroku se siete abituati con javascript è molto semplice e ha questo link che poi vedete anche sulle slide salvate lo trovate e è molto semplice deployare l'applicazione su eroku e è molto semplice utilizzare per esempio docker basta che mettete la macchina virtuale dartvm e avete il server dart ora per chi conosce javascript e magari ha mai sentito parlare di polymer qualcuno ha mai sentito parlare di polymer ok polymer js esiste anche per dart i team collaborano così come esiste anche angular ma non ve ne parlerò ad oggi esiste anche polymer e polymer appunto si basa su due tecnologie una che a me piace definire il lego del web i web components io sviluppo un'applicazione web utilizzando pezzi predefiniti e lo shadow dom ovvero non devo inserire per ogni pezzo predefinito un div col suo sotto insieme no utilizzo un altro dom ombra quindi polymer prende le due tecnologie insieme all'import da html e crea un nuovo tipo di stack un nuovo tipo di tecnologia che può essere utilizzata per omogenizzare le applicazioni web esiste in dart e cosa devo fare per utilizzare polymer per l'applicazione dart prendere l'account di roma 3 chiuderlo cosa devo utilizzare per no voglio giocare allora prendere per utilizzare polymer dovete prendere pubspec yaml del vostro progetto d'arte e aggiungere la liga polymer lì è specificato il versionamento della libreria che voglio utilizzare mi basta dalla 15.1 alla 17.0 e posso tranquillamente utilizzare gli elementi polymer come li utilizzo semplicemente importandomi l'elemento che voglio voglio un paper input un paper input quindi è un input di tipo material design per chi conosce material design una volta importato lo posso utilizzare logica dichiarativa la paper input e la label tranquillamente prendo il componente e lo utilizzo posso definire in polymer e questo anche in javascript posso definire i miei custom element solamente che in polymer.js utilizzo javascript in polymer.js utilizzo dart grazie ma voi basta che in dart definite il vostro template del vostro custom element quindi voglio fare un element hello world e voglio gestire con un applicativo dart il codice del mio in questo caso in questo caso è l'element click hunter quindi basta poi che nel mio click hunter element estendo utilizzando l'ereditarietà che c'è in dart sono le classiche l'ereditarietà quindi posso estendere l'elemento polymer element me ne creo uno io customizzato creo un attributo count che è di tipo observable cioè di tipo int ma c'ha l'annotation tra l'altro questa dell'annotation è una cosa molto familiare a chi viene da java comunque dando l'annotation observable tutto ciò che è observable c'ha il data binding nell'html quindi voi modificando poi qui quello che voi vedete count in realtà è esattamente count di click counter element sono collegati tutto ciò è molto quasi banale cioè definisco un elemento con template html e col codice dart associato posso anche crearmi degli attributi nuovi e quindi basta mettere la parola chiave published in questo caso attributi quindi dell'elemento posso farmi il mio componente volume knob che prende come attributo un valore intero volume questo valore intero è un attributo perché ho messo l'annotation published quindi classe template e i due tipi di annotation tutto molto semplice posso fare template condizionali ovvero se un contatore è minore di 10 faccio vedere una cosa in html se il contatore è maggiore o uguale a 10 faccio vedere un'altra la logica all'interno dell'html e la logica all'interno del dart della classe punto dart posso fare i template loop quindi posso ripetere il mio template quindi in questo caso l'elemento della lista mi piace il frutto in per ogni frutto della lista fruits c'è qualcuno che ride ok quindi basta mettere la lista come to observable l'oggetto di tipo observable è esportato in html quindi posso estendere il comportamento dei elementi del dom semplicemente utilizzando l'ereditarità e quindi fare extend button elements width che è una cosa particolare del dart che è chiamata mixin esiste anche in altri linguaggi ovvero estendere classi prendendone solamente il comportamento diciamo vedela così mixin serve per non sporcare l'arbero della gerarchia dell'ereditarità il mixin un altro framework che è molto utilizzato il lato server è il dart force dart force è semplicemente per chi è abituato a sviluppo java conoscete swing magari qualcuno avrà fatto delle applicazioni swing ok questo per esempio è il codice swing e questo è il codice dart utilizzando quella libreria ha le stesse annotazioni le stesse funzionalità quindi fare una web app con dart utilizzando quel framework è molto semplice utilizzando quel framework significa aggiungere una riga del pub spec e poi potete tranquillamente migrare da da spring a force framework il force framework vi permette anche di che non è google è uno sviluppatore che conosco molto bravo vi permette anche di potenziare il meccanismo di real time cioè tutto quello che è comunicazione real time tra server e client e tutto questo fatto in maniera semplice ovvero definisco un nuovo server e poi quando ricompare la quindi definisco un server lo istanzio all'avvio manda una richiesta a tutti i client col metodo send richiesta di tipo stringa quindi il messaggio stringa e in argomento passo un json ok e tutto ciò viene poi interpretato in risposta che col metodo on quindi quando mi arriva quando al server arriva un messaggio di tipo info allora fai delle cose con l'argomento ricevuto anche qua molto semplice e questo meccanismo real time mi è ispirato a socket.io il framework javascript quindi utilizzi web socket tutto quello che può fare è comunicazione verso tutti i client quindi broadcast comunicazione verso uno specifico id oppure a profili potete creare delle applicazioni social network o di chat per esempio potete fare dei gruppi e mandare e far sì che il server manda un messaggio solamente a quei gruppi potete quindi per definire un profilo è molto semplice perché basta definirlo in json e poi chiamare la init profile info dopodiché per mandare per far sì che il server mandi ai vostri profili un messaggio particolare basta fare send to profile con il nome del profile in questo caso fare una chat è molto semplice per esempio esiste anche un meccanismo di autenticazione giustamente potete farlo in maniera semplice definendo e estendendo la classe security strategy anche qui abbastanza lineare per chi viene da java in questo indirizzo github ci sono tutti i tool del force viene chiamato force universe perché è un insieme una suite di librerie fatte in dart che ti permettono di utilizzare comunicazione real time e sviluppo di applicazioni web simil spring ok un'altra libreria che prendiamo che mi piace molto che prendiamo in considerazione è stage xl volete fare un videogioco in dart un videogioco di tipo html5 javascript utilizzate dart utilizzate dart utilizzando stage xl basta aggiungere nel pub spec yaml la riga corrispondente alla versione di stage xl che volete utilizzare e vedrete che per chi viene così come per i sviluppatori di java vedono dart come familiare tutti gli sviluppatori flash si troveranno familiare in maniera familiare con stage xl perché ha gli stessi oggetti e la stessa API dell'action script di flash quindi voi potete sviluppare i vecchi sviluppatori flash che esistono ancora penso quindi qualcuno ha sviluppato le flash esatto perfetto vedrete che sarà molto facile sviluppare un videogioco in dart quindi una web application che viene automaticamente trasferita nell'html5 canvas quindi è un'applicazione html5 completa ha il tipo di gestione degli eventi che è quella dell'html5 quindi con la bubble quindi vi fate una vostra per esempio per esempio fate create un vostro sprite un vostro oggetto che sul on mouse click definisce il listener per quel click come mouse click quindi questo oggetto qua vi gestisce il click del mouse quindi è facile fare degli oggetti e associare delle listener e delle azioni potete fare questo è codice d'arte potete definire testi come vi pare a voi quindi potete fare un new text field ok con scritto in questo caso non c'è scritto game over c'è scritto spicy rice con la size e il colore definito potete associargli un testo successivamente potete dargli le coordinate x y le grandezze e potrete aggiungergli altre cose ok lo potete fare con dart in javascript magari sarebbe stato un po' più complesso utilizzando sempre un altro tipo di framework e soprattutto questo è familiare penso a chi usa flash giusto qualcuno ok può espo per fare un videogioco quindi avrete bisogno delle risorse quindi che ne so l'audio gli sprite sheet che sono le immagini di sprite uno sopra l'altro per le animazioni basta caricarli con l'oggetto resource manager resource manager caricami tutto quanto tra l'altro questo qua utilizza i future quindi quando è caricato tutto allora fai partire il videogioco molto semplice col meccanismo della sincronicità che ci offre d'arte e quindi questo qui è il future quindi load quando avete fatto il load quando il resource manager ha caricato tutto questo popo di roba eseguirà poi queste istruzioni qua magari voi fate vedere che ne so la rotella che gira quindi per esempio utilizzate la risorsa per accedere a un mp3 molto semplice anche suonarlo l'mp3 da browser con play le animazioni niente di più semplice c'è un oggetto di tipo twin a cui è associato uno sprite e gli dite mi animi questo oggetto da fino a 700 come coordinate x e y con un ritardo di un secondo quindi può dire che parte tra un secondo dopo e che quando ha finito la minimazione chiama questa funzione in questo caso nemo for parent over all che scompare tutto ciò quindi abbiamo detto che è flash i diciamo gli sviluppatori flash si troveranno in un ambiente familiare anche qui tanto familiare che utilizzando questo plug-in per flash potete creare un progetto flash quindi il vostro gioco ed esportarlo in dart c'è proprio il pulsantino sul flash che vi dice ok esporta in dart e quindi vi esportere in html 5 e dart voi poi potrete andare a mano a modificare quello che vi serve per rendere l'applicazione un po' più performante o per vedere effettivamente com'è codice dart vi create le classi e degli oggetti partendo da flash quindi lo sviluppatore flash non è morto esiste ancora avevo una demo in questo caso però non so se la rete funziona qui c'è un piccolo giochino dove ci sono delle animazioni questo è l'uccellino di dart dove passano dove c'è il server che vi darà che vi assegna una bomba casualmente a tutte le persone che possono giocare e utilizza sia la libreria stage xl per tutto quello che è l'animazione ok quindi l'uccellino di dart e tutto quello che invece è comunicazione server client utilizzando il server la libreria server quella che vi ho detto prima quindi la force ora proviamo un attimo se vi funziona andate su questo link vi funziona la rete sul telefonino sul browser facciamo un piccolo esperimento allora no non mi ci fanno ma io ci dovrei la rete ok qui code motion 2015 ok vediamo se funziona bene ok l'applicazione mi viene in errore non so perché forse è un server voi la vedete? allora vabbè l'effetto demo che non funziona mai durante le presentazioni comunque dovrete vedere un'interfaccia di tipo polymer quindi molto material design dove potete scegliere il vostro nome fate l'input del nome e potete scegliere l'avatar ve la lascio ancora perché mi serviva un attimo riprovo perché io in realtà ho l'interfaccia tabellone in cui posso gestire il gioco che però in questo momento è morta non so se è per la rete per eroku che magari ho la diciamo la macchina quella gratuita che non supporta tante connessioni fino a poco fa funzionava ce l'hai? ok quella là c'è l'interfaccia è molto semplice c'è l'interfaccia polymer prima quindi che ti fa vedere col bottone del material design poi una volta che entrate partono le animazioni degli uccellini invece sul link tabellone vedete in tempo reale tutte le persone che stanno giocando e potete far partire il gioco da quel momento un po' il server assegna una bomba voi dovete cliccare a chi viene assegnata la bomba viene data la bomba su uno degli uccellini voi cliccate su uno di quelli per tre volte la bomba ritorna al server e genera in maniera casuale un altro assegnamento di bomba a un successivo giocatore fino a che non scade il timer chi c'ha la bomba muore in quell'esempio in quell'esempio lì in quell'esempio lì viene no c'è pure interferenza in quell'esempio lì che potete vedere poi nel nel codice su github questo è il mio account c'è proprio l'esempio molto semplice il codice è molto semplice e soprattutto poco quindi comunicazione client server stage xl per un'animazione che è molto che è quasi banale però se siete dei bravi artisti potete farla effettivamente come mi pare è molto molto bella e e soprattutto c'è anche una piccola parte una piccola parte che è l'interfacciamento con firebase piccola parentesi domani c'è il lab google e comunque dart si interfaccia benissimo con firebase è molto semplice farlo sempre utilizzando le classi le sensazioni dart e questo più o meno è tutto se avete domande su dart o sul talk oppure per eventuali feedback quello è il link vai sì occhio allora non è un'alternativa diciamo è un in più io preferisco un linguaggio più di alto livello soprattutto rispetto a php e javascript quindi per fare una web application in dart se per esempio sei una grossa azienda io preferirei se sei un sviluppatore singolo magari la continui a fare in javascript ma per grosse applicazioni complesse conviene avere una gestione della complessità che dart ti dà in più tutto qua diciamo e puntare totalmente su dart non so quanto sia vincente anche perché è un linguaggio in continuo mutamento per adesso ancora deve trovare la sua corretta collocazione qualcuno mesi fa anni fa diceva è l'alternativa a javascript non è così perché dart viene compilato in javascript in javascript sotto c'è sempre ma io faccio il maneggio della complessità utilizzando le tecniche che già so gli oggetti le redditalità per esempio i pattern quelli che abbiamo studiato penso quasi tutti in javascript utilizzarli è quasi impossibile in php probabilmente ci riesci e con dart invece li applici proprio alla lettera quindi i classici pattern non dobbiamo buttarli via abbiamo delle cose in più ok interfacciamento con mysql esistono librerie che ti permettono di farlo in dart io vedo dart soprattutto tra l'altro ad aprile fanno il primo summit ufficiale dove io ho visto se andate sul sito di dart c'è scritto tutti i talk e all'ultimo l'ultimo talk dell'ultimo giorno c'è un dart on mobile android ios in realtà bisogna capire se diventerà forse il nuovo swift per android non lo so però l'ultimo talk dell'ultimo giorno è dart on mobile quindi questa è una cosa in più che ti do così una bomba non lo so grazie un po' del chiarimento l'ultimo punto parlavi di server javascript dart come server javascript anche qui in alternativa a node sì in questo caso le prestazioni ti aumentano notevolmente quindi comunque conviene usare dart a prescindere per sostituire node.js e poi fargli fare se vuoi anche il salto per il client esatto usando lo stesso linguaggio il mio consiglio è certo perché una delle potenzialità potrebbe essere quella utilizzare lo stesso linguaggio gli stessi algoritmi le stesse classi client server la potenza che tu c'hai con javascript utilizzando node era quella in realtà anche a quel punto sostituendo angular per le cose allora angular esiste per dart io non ve l'ho presentato però c'è angular dart angular dart si chiama all'interno lui esporta le stesse cose esatto l'ultima davvero è possibile dal codice traspirato tornare indietro ovviamente no adesso non è possibile non è proprio umanamente leggibile insomma però non è possibile nemmeno automaticamente all'inverso non esiste niente esistono però dei tool di cui non vi ho parlato si potrebbe essere un bene adesso non c'è niente di tutto ciò ci sono dei tool che permesso di farti di cui non vi ho parlato l'analizzatore statico del codice d'arte cioè cose molto comode che in javascript magari non le trovi vai tu prima parlavi che non diciamo non volevi parlare di angular dart però giustamente tu prima hai fatto vedere gli esempi di data binding con polimer ok cosa ne pensi effettivamente però della filosofia angular applicata a dart allora angular applicata a dart sicuramente è mi piace di più rispetto ad angular gs semplicemente perché il meccanismo di angular dart utilizza le classi cosa che è molto più appropriata usare le notation esatto bravissima proprio quello cioè utilizzando le classi con la logica di angular dart è proprio la vedi proprio che fanno scopa tra virgolette perfettamente e quindi c'è proprio la classe controller ok da cui puoi accedere e dal punto di vista delle performance c'è un calo delle prestazioni no su quello no e un'altra cosa angular già stanno lavorando all'angular 2.0 esiste anche se vai sullo sviluppo sul github di sviluppo di angular 2.0 trovi le tre versioni javascript typescript e dart quindi trovi tutte e tre è ancora sperimentale però esiste ok grazie la community è abbastanza numerosa non è quella di javascript non è quella di php o di python però insomma è da poco che c'è domanda solo per essere sicuro dart praticamente serve per far sviluppare javascript a chi non conosce il javascript è un'alternativa di alto livello per fare web application sicuramente se non conosci se sei un bravissimo programmatore javascript fa le cose in performance molto buone lato server non raggiungi però diciamo l'obiettivo è prendo un javista e gli faccio fare una web application è un mezzo in più che hanno i javisti per fare una web application sì esatto ma non è lo brutto non è lo brutto in senso io vado a fare del codice senza sapere cosa sto facendo veramente in realtà tu fai del codice sai quello che fa perché comunque c'hai la documentazione e tutto il resto ma viene compilata in java ma allora la faccio direttamente in javascript nel senso è come se fai le cose in assemble e non utilizzi c++ faccio le cose c++ però sono due cose diverse come cioè scuso se faccio le cose in assemble faccio i videogiochi in c++ cioè alcune volte se conosco l'assemble mi posso mettere a operare a livello grafico in maniera sicuramente più efficiente è diverso l'approccio è diverso il paradigma tra un'applicazione in java e una web application cioè è diverso il contesto è diverso il sì 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 però i livelli di astrazione sono più o meno simili no? cioè se tu vedi abbiamo sto mettendo un livello di astrazione per evitare che le persone debbano imparare un qualcosa qualcosa che però non è è come se facessi è come se facessi un compilatore che legge un sorgente C e lo scrive in java cioè qual è il pro? è un qualcosa javascript che però è evoluto in maniera non diciamo ma questa è un'opinione personale non standard cioè molti odiano javascript perché c'ha delle cose tremende intervengo io il problema è che no no infatti è che in fondo javascript è proprio un paradigma di programmazione diversa javascript è un linguaggio funzionale il java è un linguaggio a oggetti quindi se noi ci mettiamo sei mesi stiamo cercando un javascriptista non si trova perché è pieno di gente che dice io uso angular e poi gli dici vabbè ma che fa questa cosa esatto e non conoscono il javascript sostanzialmente però in javascript in javascript capita questa cosa spesso non sanno che quella è una function che angular punto controller vuol dire che angular è un oggetto dentro cui c'è una function bravissimo in javascript questa cosa capita spesso io uso angular io uso quest'altra cosa tu non sei un programmatore javascript io sono un javascriptista no tu scusa esatto tu magari non utilizzi nemmeno che non so il jQuery tanti non utilizzano nemmeno jQuery sì arrivi a usare pure il jQuery perché è comodo però sei in grado di capire che perché è comodo che lo sai fare anche da solo vabbè perché è comodo se c'è esigenze di produzione no è comodo solo per il cross browsing per essere per riuscire a fare document.getelementbyd su tre browser diversi senza che se incarti questo vabbè jQuery è comodo per quello però che tu mi dici in javascript non ci stanno le classi è sbagliato proprio non ci stanno delle classi cioè non si chiamano classi si chiamano function eh ma io non ce l'ho l'esempio delle classi fatte in javascript ero molte persone non diciamo eh sì diciamo che se tu vieni dall'università e hai imparato come ho fatto pure io solo il java il c mi metti davanti il javascript e dico aiuto oddio aiuto esattamente quello delle prime slide perché è proprio diverso il paradigma di programmazione non è che è sbagliato è confuso è proprio che devi pensarlo in un altro modo no 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 esattamente infatti quello che dicevo è in un modo diverso di vedere le cose eh esatto sicuramente non cancellerà javascript perché loro compilano in javascript eh sì sì esatto però quando poi uno sviluppa un'applicazione web complessa molto spesso gli errori sono a runtime e quindi avere persone che non sono in grado di aprire firebug e guardare il tab il tab script e quindi leggere il javascript secondo me rischia di essere pericoloso cioè per il debug per esempio poi utilizzando solo chrome utilizzando solo chrome vedere con le source map il codice d'arte e questo un po' devo dare una mano nel debug vabbè questo poi è un'opinione personale un'opinione personale ovviamente poi è vero uno sviluppatore javascript serio tra virgolette è più bravo rispetto a un javista altre domande? ok grazie a tutti grazie a tutti